nessuna crisi in atto tra belen rodriguez e elio lorenzoni contrariamente ai gossip secondo i quali la showgirl era apparsa sui social senza l'anello che le ha regalato il fidanzato tra i due procede tutto a gonfie vele il settimanale chi ha infatti appaparazzato la showgirl durante un weekend in franciacorta con la piccola luna marie come mostrano le immagini del settimanale chi la coppia ha trascorso un weekend fuori città in franciacorta brescia lontano dal caos della città più che una fuga d'amore per i due è stata una fuga di famiglia allargata presente infatti anche la piccola luna marie due anni la figlia che la showgirl ha avuto con l'ex compagno antonino spinalbese mamma e figlia passeggiano tenendosi per mano poi gli scatti immortalano elio mentre tiene tra le braccia la bambina insomma il ritratto di una coppia felice e affiatata contrariamente a quanto si vociferava negli ultimi tempi sul loro conto quando belen si era mostrata sui social senza anello al dito mandando in allarme i fan della coppia c'è poi dettaglio a proposito della location scelta per il fine settimana si tratta dello stesso resort di erbusco in cui la showgirl era andata insieme a stefano de martino nel 2022 quando erano tornati insieme gli scatti pubblicati dal settimanale chi mostrano come tra la coppia l'amore proceda a gonfie vele smentendo quindi gli ultimi gossip di recente sui social si vociferava che belen non mostrasse più elio tra le sue storie instagram e che quindi tra loro fosse in corso un allontanamento ad allarmare ulteriormente i più attenti era stato il mistero dell'anello la showgirl aveva tolto dal dito il gioiello che l'imprenditore le aveva regalato qualche tempo prima tutte supposizioni che almeno stando a quanto si sa ora si sono rivelate false